Oggi abbiamo avuto la possibilità di condividere questo importante percorso che abbiamo avviato che ci permette di fare un significativo salto in termini di qualità degli strumenti, delle tecnologie, dei messaggi che riusciremo a veicolare alzato sui devices, che tali sono, che avete visto nella conferenza stampa di Orsa. Ancora una volta la società di Puglia, con il fatto negli anni, è appunto a essere frontiera dell'innovazione dei servizi, in questo caso in quelli di comunicazione che si unitanno alla comunicazione istituzionale e credo che successivamente avremo modo anche di verificare come questo atteggiamento, come questo percorso, preparerà altri nostri strumenti a partire dal portale, dal nuovo portale.